Musica ...di primo cittadino come vi ha annunciato il direttore Marco Ferri nel corso del nostro telegiornale, nostro ospite questa sera il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Telespettatori che possono intervenire in diretta telefonandolo 0721 86 14 33 ma potete inviarci anche dei messaggi con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco io devo assolutamente iniziare questa puntata facendole le congratulazioni da parte di tutto lo staff di Fano TV perché è diventato papà nelle scorse settimane quindi un saluto anche alla sua compagna Lucia nella speranza che siano bene mamma e figlia. Grazie mille tutto bene a casa e siamo a casa da venerdì tutti tutti assieme e dai una bella emozione davvero una cosa molto bella. Tra l'altro un parto ricordiamolo in tempi di pandemia per cui suppongo anche gli accessi le visite in ospedale a Santa Croce non siano state così semplici purtroppo dobbiamo mettere in conto anche questa pandemia questi focolai che sono stati riscontrati non in quel reparto però abbiamo visto questi casi che purtroppo corrono anche i medici dicono il virus c'è e quindi bisogna continuare a tenere alta l'attenzione. Sì poi devo ringraziare tutto il reparto a partire dal primario il dottor Claudio Cicoli che ci hanno assistito fino alla fine davvero è stata una grande emozione. E' rimasto sempre con la sua compagna lei è riuscito? Sì sono riuscito a partecipare al parto abbiamo fatto due tamponi addirittura perché poi i tempi erano anche scaduti fortunatamente entrambi negativi e quindi ho avuto la fortuna di assistere in questo momento importante della nostra vita la mia compagna. Comunque stiamo tutto tutto bene sia Lucia che Giulia ed è una bellissima gioia. E le salutiamo di nuovo. Qual è la situazione a Mondolfo? Abbiamo visto anche un aumento di casi a Fermignano ad esempio invece nel vostro comune? La situazione è una situazione in linea con gli altri comuni della provincia di Pesaro e Urbino al momento i positivi nel comune di Mondolfo sono 63 e ci sono alcune classi in isolamento quindi in quarantena sono due classi della scuola media dell'istituto comprensivo Fadi Bruno che termineranno la loro quarantena una il 2 dicembre e una il 3 dicembre quindi nei prossimi giorni. Al momento la situazione è abbastanza sotto controllo noi dai primi di novembre abbiamo riattivato in collaborazione con i volontari della protezione civile Fadi Bruno un numero di telefono per l'assistenza per beni di prima necessità e medicinali quindi un numero di telefono che i cittadini possono chiamare in caso di necessità per le persone che sono positive o sono in isolamento a casa che non possono spostarsi quindi è un bel servizio ci tengo a ringraziare i volontari della protezione civile anche quelli della Croce Rossa che in questo periodo che è un periodo che sembra non finire mai ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine sin dalla prima ondata. Certo e ricordiamo anche che è attivo tutti i giorni domenica compresa dalle 8 alle 20 quindi un bel servizio. Per quanto riguarda invece i bonus state cercando avete già aiutato le famiglie in difficoltà? Sì le abbiamo aiutate nella prima ondata e ora sono ripartiti i buoni spesa con un primo contributo di 8 mila euro che abbiamo ottenuto con tutti i comuni dell'ambito sociale assieme alla fondazione Carifano 8 mila euro non sono tantissimi però andiamo ad aiutare alcune famiglie diverse famiglie in difficoltà nel territorio comunale Comunque i buoni spesa continueranno perché sono in arrivo altre risorse per i comuni e quindi poi nei prossimi giorni assieme all'ambito sociale 6 e tutti i comuni sceglieremo quelli che sono i criteri più opportuni e poi anche le modalità di erogazione. Tra l'altro citavamo prima ma è stato anche aggiornato il piano di protezione civile quindi sempre pronti per qualsiasi tipo di emergenza avete sistemato la segnaletica anche il sistema radio quindi Sì abbiamo aggiornato il piano di protezione civile comunale assieme al vice sindaco e al sessore della sicurezza Carlo Di Ottallevi sono diversi anni che ci stiamo lavorando era un piano di protezione civile che risaliva al 2005 quindi molto vecchio aveva bisogno di aggiornamento e quindi abbiamo realizzato da poco la nuova sede del COC che sarà quindi a Marotta abbiamo installato una nuova segnaletica nei parchi pubblici nelle aree pubbliche sono 18 aree di primo soccorso in caso di emergenza abbiamo acquistato un sistema radio per le comunicazioni tutto questo in collaborazione naturalmente con la prefettura con le forze dell'ordine protezione civile Croce Rosso e anche uffici tecnici che ringrazio per la collaborazione in questi mesi abbiamo acquistato anche delle dotazioni per dei dpi per il personale di protezione civile comunale e anche un automezzo quindi che servirà durante l'emergenza Anche gli spostamenti Buonasera Volevo chiedere quando è prevista la fine dei lavori che riguarda il nuovo sottopasso pedonale dove era il passaggio a livello? Grazie Daniele Allora grazie del messaggio e la conclusione dei lavori è per l'inizio dell'estate 2021 In questi giorni i lavori si sono intensificati ancora di più al passaggio a livello perché ci sarà la spinta del monolite quindi RFI ha comunicato Ha ridotto il passaggio dei treni soprattutto nella parte notturna della tratta adriatica proprio per effettuare queste spinte del monolite quindi questo tunnel che passerà sotto la ferrovia e faranno la spinta sia del sottopasso ciclopedonale all'altezza di via Riosto quindi del passaggio a livello e sia in stazione perché in stazione stanno realizzando un nuovo sottopasso per adeguare la stazione all'accesso per le persone disabili quindi sostanzialmente in stazione a Marotta avremo un doppio sottopasso uno che porta a mare e un altro adeguato dal punto di vista dell'eliminazione delle barriere architettoniche per permettere in sicurezza agli utenti che utilizzano il treno di accedere al secondo binario In questi giorni, lo anticipo ai cittadini, gli interventi saranno più invasivi e quindi ci potrebbero essere anche dei rumori in più durante la notte nel periodo che va da oggi fino al 15 dicembre circa Quindi dei piccoli disagi però a beneficio del futuro Volevo chiedere al signor sindaco se è possibile far togliere le biciclette in estate appoggiate su moretti che coprono sempre i mosaici dell'associazione Chiaroscuro Questa è una bella proposta anche costruttiva abbiamo visto lo stesso nei giorni scorsi delle opere meravigliose in occasione della giornata sulla violenza contro la violenza sulle donne Quindi un ottimo lavoro da parte di queste donne e anche uomini perché lì si trattava di artisti di tutto il mondo Sì, tanti artisti provenienti da tutte le parti del mondo I mosaici sono bellissimi, l'abbiamo detto più volte anche qui nelle trasmissioni ringraziando l'associazione Chiaroscuro e tutti i volontari e le volontarie dell'associazione E noi abbiamo realizzato la nuova pista ciclabile inserendo appunto dei parcheggi sia per motorini ma anche per biciclette al centro della carreggiata Purtroppo non tutti i cittadini sono rispettosi dei mosaici anche se alcune volte capita che d'estate ormai la bicicletta la utilizzano quasi tutti sul nostro lungomare Quindi sono davvero tante le biciclette Andiamo avanti con i messaggi Andiamo nel centro storico di Mondolfo Le chiedono se è previsto un intervento a favore delle mura castellane e delle vie che la percorrono In particolare via San Michele e via Largo Neviera che attualmente sono in uno stato di totale abbandono Dovremmo avere anche delle foto così che poi apriamo anche tutto l'argomento asfalti perché abbiamo tante cose da dire Ecco questa è la foto che ci ha inviato il nostro telespettatore Le chiedono se si può fare qualcosa anche perché per dare un bel senso di un borgo accogliente per il turista Sì noi adesso stiamo facendo un intervento che è un intervento importante che è il recupero del bastione Sant'Anne Sono 280 mila euro che vengono investiti in una zona strategica del borgo Quindi una bella riqualificazione e andremo ad inaugurarlo nella prima metà del 2021 Queste sono immagini relative a via San Michele Che è un'altra via all'interno del nostro centro storico che necessita di intervento Purtroppo in passato si era soliti intervenire coprendo le buche con l'asfalto Quindi si rattoppavano un po' Si rattoppavano e si coprivano le buche con l'asfalto Però noi non lo riteniamo il modo migliore per trattare uno dei borghi più belli d'Italia Quindi servirebbe una pavimentazione fatta bene e che va in linea con il borgo E anche con il cambio ad esempio dell'illuminazione pubblica che abbiamo fatto pochi anni fa Con le lanterne artistiche su tutto il centro storico Quindi sicuramente necessita in più punti di attenzioni e piano piano stiamo mettendo mano un po' a tutte le zone Rimaniamo un attimo nel borgo perché chiedono Visto che ci sono molte case in vendita Volevo chiedere al sindaco se sono previsti anche degli incentivi per la ristrutturazione delle case Allora gli incentivi sono gli incentivi statali che sono già previsti Anzi con l'emergenza sanitaria hanno ampliato anche il pacchetto dei bonus a disposizione per tutti i cittadini Quindi bonus per la ristrutturazione edilizia, per la riqualificazione energetica Ma c'è anche il bonus facciate che era già previsto dalla legge di bilancio di dicembre del 2019 Quindi le spese potevano essere detratte fiscalmente Quelle spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 Hanno fatto la proroga a livello nazionale di questo bonus facciate Quindi ci sono diversi come il super bonus anche 110 Quindi diverse possibilità per intervenire Poi sta anche il privato ad avere a cuore il restauro della propria abitazione Noi l'abbiamo fatto con diverse diffide antidegrado su diversi immobili sparsi su tutto il territorio Alcune sono andate a buon fine, altre meno Non si riesce sempre a sensibilizzare il cittadino a migliorare anche il proprio patrimonio Che ne va a beneficio appunto anche dell'intero borgo Prima di parlare del cimitero perché ce lo stanno chiedendo in tanti Stanno pure telefonando in regia Parliamo dicevamo degli asfalti Dobbiamo, eccole qua Guardiamo insieme un po' di foto Sindaco le commentiamo così ci illustra anche Sì abbiamo fatto diversi interventi di asfaltature Il nostro è un piano di asfaltature continuo Cioè abbiamo deciso ogni anno del nostro mandato Di mettere delle risorse nel bilancio Proprio per interventi di asfaltature nel territorio comunale Quelle che vedevate erano l'asfaltatura della strada pergolese Quella fatta da Anas Un bel intervento, un bel investimento Che ha riguardato sia la parte di Centocroci che la parte di Marotta Poi abbiamo via Cardarelli, via Molino Vecchio Il parcheggio tra via Molise e via delle Regioni Questa è via Andersen Poi continueremo via Andersen con la seconda parte di asfaltature Questa è la pergolese all'altezza di Centocroci Quindi diversi interventi che non si concludono Con questa prima tranche Ma proseguiranno anche nei prossimi mesi La volontà è quella di mettere altre risorse a bilancio Proprio nel bilancio del 2021 Che andremo a provare a metà dicembre E dovremmo essere sulle 150 mila euro Riusciremo a mettere a bilancio sulle asfaltature Quindi andremo a risolvere altre situazioni Penso a via Le Grotte a Mondolfo Ma anche via Monte Ciappellano lato Ulivi Via Rio Vaccaro, via Buonacesta A Centocroci, via Veterana, via Vivaldi e via Paganini Dove nelle prossime settimane ci sarà un intervento di ASET All'acquedotto Però poi bisognerà asfaltare nella primavera del prossimo anno Quell'intervento che verrà realizzato Quindi abbiamo già in mente le strade su cui vorremmo intervenire Quando terminerà il cantiere del Camposanto Nuovo e a che punto è? Allora, per quanto riguarda il cimitero comunale Anche lì abbiamo avuto una vera e propria emergenza Perché ci siamo ritrovati con pochissimi loculi A disposizione con una variante scaduta nei termini Quindi abbiamo dovuto riprendere tutto Non c'era niente a bilancio per quanto riguarda il cimitero comunale Quindi abbiamo previsto degli investimenti Ora stiamo ampliando e quindi ci sarà un investimento appunto nella parte nuova Un po' è già stato realizzato Poi i lavori continueranno anche per tutto il 2021 Stiamo realizzando le nuove edicole E realizzeremo anche i nuovi loculi Intanto abbiamo alcuni giorni in questi mesi chiuso il cimitero comunale Proprio per effettuare delle stimolazioni Che liberassero nuovi loculi nel vecchio cimitero Quindi è un percorso che continua Non semplice ma si cerca di creare meno disagi possibili alla cittadinanza Interventi anche al bocciodromo di Marotta per la messa in sicurezza? Si abbiamo iniziato da pochi giorni Un intervento al bocciodromo comunale è molto importante È un impianto degli anni 80 che necessitava di manutenzione Quindi per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana Stiamo intervenendo sul tetto Quindi la messa in sicurezza della copertura del bocciodromo comunale Abbiamo fatto un sopralluogo con l'associazione sportiva di lettantistica Bocciofila Marotta che svolge un servizio importante È un impianto che rappresenta un punto di riferimento per tutta la nostra comunità Anche perché adesso deve rimanere chiuso per forza di cose Quindi se ne approfittiamo anche per fare questi lavori Sì ne approfittiamo per fare questi lavori Abbiamo fatto un sopralluogo assieme all'assessore dello sport Giovanni Di Tommaso E al direttivo della bocciofila proprio per controllare questo inizio Le chiedono dunque quando si fa la rotatoria al semaforo? Per quanto riguarda la rotatoria al semaforo Abbiamo un aggiornamento proprio di questi giorni Perché abbiamo firmato con l'amministrazione comunale La convenzione assieme ad ANAS Che detta quelli che sono i doveri dell'amministrazione da un lato E di ANAS dall'altro Quindi nella convenzione Secondo la convenzione che abbiamo firmato L'amministrazione comunale si occuperà degli espropri Quindi di cedere poi le aree ad ANAS Mentre ANAS si occuperà della progettazione, della gara E anche dell'esecuzione dei lavori Quindi adesso ANAS farà dei rilievi per i sottoservizi E procederà quindi con la progettazione Quindi tra qualche mese speriamo di avere il progetto della rotatoria C'è già uno studio di fattibilità che ANAS in questi mesi aveva realizzato E poi sulle tempistiche adesso non sappiamo dare dei tempi certi Però comunque c'è la volontà di farla nel più breve tempo possibile Iniziano ad arrivarci tantissimi messaggi con l'elenco di vie Adesso ne citiamo qualcuna Però abbiamo tanti argomenti di cui parlare Quindi non vorrei soffermarmi soltanto sulle asfaltature Ci chiedono per via San Pasquale, via Valle del Pozzo Poi via della Repubblica E chiedono anche come mai hanno asfaltato via Molino Vecchio E no via Mengaccio e Passo di Rango Le risultano queste vie per le prossime asfaltature, quelle della primavera? Ma semmai le prendiamo come segnalazioni Non voglio promettere cose che non riusciamo a mantenere Sicuramente c'è un impegno da parte dell'amministrazione comunale Negli anni a farle e i cittadini l'hanno visto con i loro occhi Quindi sono vie alcune che ho fatto dei sopralluoghi E alcune necessitano di interventi Poi le risorse non sono illimitate Quindi anche noi dobbiamo vedere quelle che hanno maggiore criticità E fare delle scelte Però sicuramente prendiamo queste segnalazioni per il futuro Le chiedono se sono già stati scelti progetti Che derivano dal concorso di idee Finanziate con le riduzioni delle indennità E anche degli assessori Perché tutta la giunta poi si è ridotta a queste indennità Sì abbiamo scelto I risultati li avremo pubblicati domani Abbiamo deciso di utilizzare le risorse Sono 21.400 euro Quelle che abbiamo accantonato Negli anni relativi 2019 e il 2020 Per l'acquisto di nuovi giochi pubblici E sistemare quelli esistenti che necessitano di manutenzione Quindi abbiamo fatto questa scelta Che va incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini Per migliorare i giochi pubblici su tutto il territorio comunale Quindi nuove altalene, nuovi scivoli, nuovi castelli E diciamo che siamo soddisfatti Perché tanti cittadini hanno partecipato al concorso di idee Anche quest'anno Li ringraziamo, tante idee, tutte valide Alcune più difficili da realizzare Alcune più facili Però comunque le terremo in considerazione anche per il futuro Ed è un modo per noi Per dare un segnale anche come amministrazione comunale Che ognuno di noi può fare la differenza Per migliorare il territorio in cui vive Quindi in questi anni In questi cinque anni ormai Abbiamo accantonato circa 60.000 euro Con la quale abbiamo realizzato le attrezzature sportive sul lungomare Il restauro del monumento ai caduti nel centro storico di Mondolfo Abbiamo donato l'IM, PC portatili, schermi LCD Alle scuole del territorio E adesso andremo a sistemare Ad inserire, aggiungere nuovi giochi pubblici Nel territorio comunale Alcuni sono stati aggiunti anche qualche mese fa In collaborazione con l'associazione Malarupta E abbiamo, grazie a questa idea dell'associazione Malarupta Abbiamo aggiunto nel parcheggio tra Viale delle Regioni E via Calabria dei giochi inclusivi E quindi anche questo è un bel progetto Che abbiamo portato a termine assieme a loro Ecco queste sono le immagini di inaugurazione Le arrivano tanti messaggi per fargli gli auguri Per dire congratulazioni per la passione che mette Nello svolgimento del suo servizio insieme a tutta la Giunta Ma andiamo adesso alla segnalazione e alla richiesta Quale ruolo si va definendo con l'ASUR Per la Casa della Salute Bartolini di Mondolfo? Sì, noi lì abbiamo fatto diverse lettere Sia all'ASUR che alla Regione Marche Anche in vista della revisione del piano sociosanitario Di cui ha parlato anche l'assessore regionale alla sanità E noi lì abbiamo diversi progetti Che riguardano la Casa della Salute Quindi l'ex ospedale Bartolini di Mondolfo Intanto l'ASUR sta realizzando nuovi ambulatori Medici, H24 Quindi sarà un servizio che si aggiunge A quelli che sono già presenti all'interno della Casa della Salute Quindi nel retro della struttura verranno realizzati questi ambulatori Adesso con l'emergenza epidemiologica Si sono fermati un po' questi lavori Ma riprenderanno nei primi mesi del 2021 E andranno a conclusione, così ci ha detto l'ASUR Nella prima metà del 2021 Però abbiamo anche a fianco all'ex ospedale Bartolini Un immobile contiguo quindi all'ex ospedale Dove stiamo portando avanti la progettazione per due cose Di cui vorremmo arrivare a un risultato e a compimento Assieme all'assessore dei servizi sociali Alice Andrevoni Che ci sta lavorando assieme alle associazioni del territorio Uno è il centro prelievi Avis Quindi che potrebbe ritornare a Mondolfo E sarebbe un servizio importante Che richiedono anche tutti i soci dell'Avis comunale di Mondolfo Marotta È un progetto in collaborazione con loro Vedremo se riusciremo a portarlo a casa Però sarebbe davvero un servizio anche per tutti i donatori Della bassa Valcesano E l'altro è il centro di urno per i malati di Alzheimer Abbiamo visto quanto sia importante come servizio Nei vari territori della nostra provincia di Pesaro e Urbino E noi abbiamo dato la disponibilità a cedere in comodato d'uso gratuito Alla regione Marche Proprio anche questo immobile di nostra proprietà Stiamo portando avanti i progetti E magari con la speranza che con il MES, con il Recovery Fund Quindi con diverse possibilità anche di finanziamenti europei Riusciremo poi a realizzarli Andiamo avanti con un'altra segnalazione Vediamo un attimo se riusciamo ad avere dalla regia la foto Perché si tratta di una renghiera Ci hanno scritto appunto oggi pomeriggio Quindi siamo riusciti a preparare questa fotografia Si trova di fronte all'edificio della scuola primaria e secondaria Moretti Ed è ancora incompleta Quando si pensa di sistemarla? Allora lì con l'ufficio tecnico abbiamo in programma la sistemazione E come tempistica mi hanno dato all'incirca due settimane Quindi anche ancora due settimane d'attesa al massimo Per vederla ripristinata Lì purtroppo hanno fatto dei lavori E durante quei lavori hanno creato il problema Però andiamo a sistemare L'ufficio tecnico ce l'ha già in programma Ci scrivono Grazie per la pensilina che si sta costruendo in Vianders Anche lì era una richiesta che parte da lontano in realtà Da quando doveva iniziare l'unificazione Sì, quella è una fermata che viene utilizzata da tanti cittadini di Marotta Ma anche da tanti cittadini di Ponte Sasso Sia studenti che famiglie che prendono l'autobus Quindi tutti i giorni Anche anziani al pomeriggio Ed è una fermata come vedete in foto Che praticamente non esisteva Molto pericolosa E finalmente andremo a sistemare questa situazione Grazie a quei fondi messi a disposizione Da parte della regione Marche Sul trasporto pubblico locale Noi abbiamo segnalato diverse fermate bus E questa era tra quelle Devo dire che sarà un bel intervento Che cosa verrà fatto nello specifico? Ci sarà una pensilina Ci sarà la corsia La corsia per l'accesso degli autobus Illuminazione Quindi a tutti gli effetti una fermata bus La regione Scrivono ha stanziato 800 mila euro Per avviare la ciclovia del Cesano A che punto siamo? Con la ciclovia del Cesano Stiamo portando avanti il progetto Con tutti i comuni della vallata del Cesano È un percorso non semplice Perché stiamo mettendo assieme Tutti gli uffici tecnici Dei comuni della vallata del Cesano Dove Mondolfo è il comune capofila Sarà un percorso che passerà lungo fiume Sicuramente quegli 800 mila euro Poi dovranno essere integrati Perché per le altre ciclovie Che da mare raggiungono l'entroterra La regione in passato Aveva stanziato molte più risorse E forse la ciclovia del Cesano È quella in cui è stato finanziato Meno rispetto ad altre Quindi servirà poi una integrazione Speriamo che verrà fatta Con la nuova giunta regionale Ci fermiamo sindaco Per qualche istante di pubblicità E poi torniamo in diretta Per leggere tutti i vostri messaggi A tra poco Bene, bentornati in diretta Sindaco, cominciamo subito con una foto Che ci è arrivata lo stesso nel pomeriggio Vado a leggerle il messaggio del telespettatore I lavori dei cantieri per la banda ultralarga Hanno lasciato dei segni nel centro storico Di uno dei borghi più belli d'Italia Se l'attivazione della banda ultralarga È cosa buona ed utilissima In un periodo come questo Perché aumenta di certo l'informazione Sarebbe altrettanto buono Ripristinare la pavimentazione pubblica Come era in origine Qui verrà sistemato a breve Che cosa si prende? Per quanto riguarda l'intervento Che sta realizzando Open Fiber Nel territorio comunale È un intervento molto invasivo Perché è un progetto di 2 milioni e mezzo di euro Un investimento che porterà la fibra ottica Su tutto il territorio comunale Su quasi tutte le case Quindi quasi tutte le case Del comune di Mondolfo verranno raggiunte Tra l'altro i lavori dovevano concludersi A fine 2020 invece hanno tardato Con l'emergenza sanitaria E non solo per questi motivi Quindi il nuovo cronoprogramma Dice che la conclusione dei lavori Sarà a metà del 2021 Come dicevo sono interventi molto invasivi Che hanno creato problemi In molti territori comunali Dove Open Fiber ha iniziato questi lavori Fortunatamente noi siamo tra i primi comuni Però anche tra i primi comuni Ad avere disagi di questo tipo Ho visto diversi articoli di giornale Anche a Vallefoglia Anche a Montellabate In altri comuni dove Open Fiber Ha creato dei disagi Noi abbiamo fatto un incontro Con Regione Marche Con Infratel Che è la società in house Del ministro dello sviluppo economico E anche con Open Fiber Per sollecitarli Non solo nella velocizzazione Di questo cronoprogramma Ma anche nelle modalità Di esecuzione dei lavori Perché i cantieri se partono Devono essere poi finiti E messi in sicurezza I ripristini che vedono i cittadini Ci tengo a precisare Che sono dei ripristini temporanei Poi diventeranno definitivi Però comunque ci sono delle situazioni Di criticità Che stiamo segnalando In base alle segnalazioni Dei tanti cittadini Che ringrazio In tema sempre di banda ultralarga Alcune settimane fa Abbiamo dato la notizia Anche dell'attivazione Di sei nuovi armadi A Marotta Centro E a Marotta Nord Da parte di Telecom E questo rappresenta Un bel servizio In via Dalmazia In via Andersen In via Ugo Betti Via Le delle Regioni Via degli Abruzzi Quindi via Sterpettine A Marotta Sud Bisognerà aspettare ancora un po' Sì, rimane ancora Questo disagio per i cittadini Soprattutto è un'infrastruttura importante L'abbiamo visto anche Durante l'emergenza sanitaria Con la didattica a distanza Però diciamo che Dal 2016 Quando ci siamo insediati Ad oggi Le cose sono cambiate Sono migliorate E sono sulla giusta direzione Sulla buona strada Però Dobbiamo stare insomma Sopra Alle ditte Che Lavorano E queste società private Per farle investire Nel nostro territorio Faccio tanti complimenti A Sindaco Barbieri Credo abbia fatto Più lavori lui In un mandato Che le altre amministrazioni In 30 anni Purtroppo Sono del Comune di Coglie Almentauro E quindi non posso Suffrire delle sue iniziative Molto valide Quindi salutiamo anche Paolo Che ci ha scritto Questo bel messaggio Dicono Allora Buonasera Anche se il concorso Di idee è scaduto Vorrei far presente Che sarebbe necessario Anche l'abbattimento Di barriere architettoniche Ci fanno l'esempio Dell'ASL A Mondolfo Qui il Comune Può intervenire O è comunque La sanità Che devi provvedere L'ASUR Adesso se parlano Dell'ex ospedale Bartolini Avevano installato Appunto un servoscala Però comunque Prendiamo la segnalazione Gliela rigiriamo Senz'altro Le segnalano Che c'è una piazzola ecologica Tra via Corfu E via Ferrari Con cassonetti Fatiscenti Spazzatura ovunque Quindi sarebbe In caso di intervenire Chiedono anche Di fare più potature Per quanto riguarda Le potature Ne abbiamo fatte Diverse Penso a via Le Gramsci Penso a via Brodolini Sulla base anche Di quelle che sono Le segnalazioni Dei cittadini E le esigenze Del territorio comunale Comunque continueranno Anche Nei prossimi mesi Ci sono dei periodi Per fare queste Queste potature Però comunque Le mettiamo anche Nel nuovo bilancio 2021 E quindi nei primi mesi Del 2021 Andremo a risolvere Le varie Criticità E le varie Segnalazioni Dei cittadini E le fanno anche qua I complimenti Tantissimi Questa sera L'unica lamentera Qui c'è sempre Un però È stato aperto Il dispensario Di staccamento Farmacia Fumarola Ma questo Apre soltanto Durante la stagione estiva E quindi per i residenti C'è un mancato servizio Si può fare qualcosa? Sì in realtà Nel piano Farmacie Noi abbiamo Inserito Cinque farmacie Nel territorio comunale Secondo Come è la disposizione Del decreto Monti Che Dà appunto Una farmacia Ogni 3000 Abitanti Quindi Quattro farmacie Le abbiamo Confermate E una È Considerata Sovranumeraria Perché supera Comunque Il 50% Dei 3000 Abitanti E Queste nuove Farmacie Oltre a quella Di Marotta Centro Quella di Marotta Nord E quella di Mondolfo Centro Saranno Una a Pianomarina E l'altra A Centocroci Queste due Farmacie Sono già State assegnate Quella di Centocroci C'è un Ricorso In piedi Quella di Pianomarina Però è già Stata Assegnata Però Al momento Non sono Partiti Con La Nuova Realizzazione Quindi Il dispensario Farmaceutico Diciamo Funge Da Per Risolvere Questa Mancanza Che c'è All'interno Del quartiere Però in realtà La regione Marche Le ha già Assegnate Anche a quella Di Pianomarina Inizia anche Il tantam Io la penso Come Paolo Sono di Torrete Quindi Anche qui Will Te Complimenti Visto che Parliamo Di Interventi Comunque Positivi Non possiamo Non parlare Di Mobilità Sostenibile Di Mobilità Sostenibile Abbiamo fatto Tanti Interventi Nell'estate Abbiamo Inaugurato Due Percorsi Importanti La pista Il percorso Ciclopedonale Mondolfo Arfil Che collega Pianomarina A Marotta Centro E abbiamo Inaugurato La ciclovia Adriatica Quindi la Riqualificazione Del lungomare A Marotta Nord Però ci sono Altri Interventi Che vogliamo Portare avanti Uno è iniziato Un lavoro Adesso Un lavoro Di minore Impatto Però comunque Importante Che è il completamento Di quel percorso Ciclopedonale Che via Buozia Via 28 Settembre Raggiunge Via Salvemini E quindi L'intervento È iniziato Da poco E si Concluderà In poche Settimane E poi Abbiamo Anche La volontà Cioè la volontà Dell'amministrazione Comunale Di Realizzare Il percorso Ciclopedonale Che collega Centocroci A San Gervasio Un Primo tratto L'abbiamo Realizzato Nel 2017 Abbiamo collegato Centocroci A San Sebastiano E quindi Vogliamo collegare Appunto Centocroci A San Gervasio Quindi dal centro Commerciale Il Famila Questo percorso Ciclopedonale Che raggiunge Appunto L'abbazia Di San Gervasio Ed è Un'opera Molto Importante Sia per i residenti Tanti residenti Di Via Beato Angelico E anche I tanti Residenti Lungo La Pergolese Del quartiere Di Ponterio E questo È un Progetto Andremo con La progettazione Esecutiva Nella prima metà Del 2021 E anche Gli espropri Per poi Iniziare Appunto I lavori Però Lo ritengo Un'opera Di cui se ne parla Da tantissimo Tempo E che come Amministrazione Comunale Stiamo mettendo Appunto Le basi Per realizzarla Allora Il telespettatore Ha ragione Non abbiamo dato Una risposta Sulle piazzole Ecologiche In realtà Per i furbetti Dei rifiuti Sarebbe necessario Qualche intervento Magari Dei vigili urbani Per beccare Queste persone Che lasciano Spazzatura Ovunque Soprattutto se si tratta Di frigo Televisioni Materassi Quindi Rifiuti Ingombranti Sì Tra via Corfu E via Ferrari C'è in effetti Un'isola ecologica Molto Grande Spesso È ricettacolo Anche di Rifiuti E di abbandoni E quindi Cercheremo di fare Più controlli Anche se Non è Così Così Semplice Perché Comunque Le persone Che vogliono Abbandonare I rifiuti Lo fanno In un momento Della giornata Ecco Che non Vengono visti Dalle persone E dalla polizia Locale Però Sicuramente Ci faremo Maggiore Attenzione Le segnalano Che in via Marconi C'è una perdita Grave Di acqua Dalle mura Cinquecentesche Anche da molti giorni Quindi temiamoci Scrivono che venga giù Il muro Da un momento All'altro Beh oddio Forse era una segnalazione Da fare qualche giorni fa Se è così Grave No no Ma è già stata Segnalata Ad Aset E quindi L'ufficio tecnico Ne ha conoscenza Quando inizia la raccolta Porta a porta La raccolta Porta a porta Sarà il nuovo servizio Che inizierà Da novembre 2021 Quindi fra un anno Inizierà il nuovo servizio Quindi sarà una raccolta differenziata Porta a porta Spinto Su tutto il territorio comunale E quindi non ci sarà più Anche il problema Degli abbandoni Dei rifiuti Nelle isole Ecologiche Ci sono altri interventi Molto importanti Prima di passare All'illuminazione Perché abbiamo anche Delle belle foto Che ci avete mandato Per far vedere Il prima e il dopo Andiamo sulla scuola Di Viafermi Lì c'è stato lo stesso Un intervento Importante E strutturale Vediamo anche Di che cosa si tratta Ci sono stati Logicamente diversi Sopralluoghi Ma un adeguamento Sismico Per mettere in sicurezza L'istituto Sì è un adeguamento Sismico Della scuola Mediafermi I lavori Sono iniziati Già da diverso tempo Proseguono Adesso abbiamo ottenuto L'ultimo finanziamento Che è quello Del corpo B Che era Il finanziamento Mancante E ora Si stanno per concludere I lavori Alla palestra Della scuola Mediafermi Quindi che Ritornerà appunto Utilizzabile Dopo sei mesi Alle associazioni Dalle associazioni Sportive E si tratta Di un bel intervento Nel cuore Del nostro Centro storico Lì su Viafermi Abbiamo riqualificato Anche il campo Sportivo di Viafermi Appunto E quindi sono Diversi Interventi Che stiamo Portando avanti In questi anni E questo Ritengo L'opera Più importante Che rimarrà Tutta la comunità Di una scuola Finalmente Adeguata Dal punto Di vista Sismico È stato Un percorso Molto lungo Lo è Ancora Noi continuiamo A monitorare Insomma Il cantiere E cercare Che i lavori Si concludano Nel più breve Tempo Possibile Dicevamo Anche Di questi Interventi Che riguardano L'illuminazione Pubblica Abbiamo una bella Carrellata Di immagini Quindi le andiamo A commentare Insieme Sindaco Sì Ne abbiamo Fatte diverse Questo era Il lungomare Di marotta Sud Che abbiamo Dove mancava L'illuminazione Pubblica Da dopo Le vele Fino al Nuovo Sottopasso Di via Foscolo La differenza È tanta Insomma L'impatto Si Erano proprio Vie Strade Al buio E nel 2020 Non può Accadere una cosa Di questo tipo Quindi abbiamo Cercato In questi anni Di sistemare Diverse Situazioni Che avevamo Su tutto il territorio Comunale Questa è Via Illica Che anche lì È una via Di marotta nord Che era sprovvista Di illuminazione E poi Adesso Stiamo Abbiamo Anche Realizzato Illuminazione Pubblica Di via Del sole E poi Stiamo Realizzando L'illuminazione Di via Cezanense Un tratto Di 800 metri E questo qui Che va Dall'incrocio Con via Molino Vecchio Fino a oltre L'incrocio Con via Della campanella Quindi 800 metri Di una strada Che è una strada Provinciale Che avrebbe bisogno Di asfaltature Ma non è competenza Del comune Però intanto Noi ci mettiamo Del nostro Con 50 mila euro Delle risorse Del bilancio Comunale Andiamo A realizzare L'illuminazione Ora ci siamo Una colonnina Ogni anno Ogni anno E' una strada Con cui siamo Perché se no Perché se no Non facciamo In tempo Parlavamo Di illuminazione E ci dicono Che in via Litorania A sud Dell'incrocio Per salire A piano Marina Il tratto Di satale È completamente Sprovvisto Di luce Quindi se Lì si può Fare qualcosa Si può intervenire Poi Sì Lì c'è un intervento Edilizio Privato E verranno Realizzati Tre pali Della pubblica Illuminazione Lungo La strada Statale Non sarà Sufficiente Per illuminare Tutto il tratto Però già Tre pali Della pubblica Verranno Realizzati Nei prossimi mesi È possibile Sostituire La scala In legno Artigianale Con una più sicura Che da piazzale 8 marzo Congiunge Via Salvemini Da piazzale 8 marzo In via Salvemini Che cosa Una scala In legno Artigianale Non so però Se si tratti Di una cosa Comunale Perché non ho In mente A quale scala Si riferiscono Vediamo se ci scrivono Alcuni dettagli Le dico però Che ci stanno Continuando a scrivere Da comuni Al di fuori Di Mondolfo Quindi altri Per farle complimenti Quindi stasera Tanti bei messaggi Per lei Diciamo del Natale Quest'anno il Natale Sarà un po' più sobrio In tanti comuni Anche a Marotta Mondolfo Mantenete questa linea Sì le iniziative Saranno pochissime Stiamo portando avanti Le luminarie Su tutto il territorio Comunale Quindi verrà illuminato Il palazzo comunale Avremo in piazza Del comune Un albero Particolare Non sveliamo Non sveliamo Di che cosa Si tratta Farete una cerimonia Per l'accensione Faremo una cerimonia Per l'accensione Delle luminari Adesso ci stiamo sentendo In questi giorni Per far sì che Tutto coincida Nel migliore dei modi Comunque dovrebbe essere Il 6 dicembre Alle ore 18 Ma l'evento Lo faremo In streaming Nel rispetto Per evitare Assembramenti Giustamente Delle disposizioni Imposte dal decreto Ci saranno anche Delle installazioni Luminose Da parte Della Proarte Mondolfo Con dei pannelli Sulla natività Nella storia Dell'arte Quindi al complesso Di Sant'Agostino Abbiamo Con la Proloco Marotta Realizzato Realizzeremo Le luminarie Nel territorio Comunale Sulla parte Di Marotta Marotta Nord E anche Piano Marina E con la Proloco Tre Colli Di Mondolfo Con tanti volontari Che stanno Posizionando E illuminare Su tutto il nostro borgo Anzi ne approfitto Per ringraziare Tutti questi volontari Tutte queste associazioni Che danno una mano Al comune E renderlo Sempre più Più bello E attrattivo Per Per i tanti Cittadini E turisti Che vengono A visitarlo E poi abbiamo La nostra Mondolfo Galleria Senza Soffitto Con il direttore artistico Filippo Sorcinelli Quindi una mostra permanente Che abbiamo Tutto l'anno Quindi chi verrà A visitare Sperando che ci siano Poi Delle possibilità Di spostamenti Da fuori E avranno La possibilità Quindi di visitare Questa mostra All'interno del borgo Con tutte queste opere D'arte Street art E fotografie Di Mario Giacomelli Quindi tutto il resto Tutti gli altri eventi Che purtroppo Siete soliti Organizzare Quest'anno Sono stati annullati Al momento La solidarietà Abbiamo capito Che non manca mai E quella Insomma È sempre Sempre bella Perché tiene unita L'intera comunità Quindi complimenti A tutti i volontari Un ringraziamento Anche di nuovo Al sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Per essere tornato Nei nostri studi Grazie sindaco Grazie a voi E un saluto Di nuovo Alla piccola Giulia E a Lucia Grazie anche a tutti voi Per averci seguito Buon proseguimento Di serata